Grazie Presidente. Io personalmente ho seguito questo tema per conto della maggioranza da subito. Ritenere che questo argomento sia un argomento facile da trattare di sicuro non lo è, perché sono piene le aule dei tribunali di tutta Italia di sentenze sulle progressioni verticali, che danno ragione ai ricorrenti e che danno torto ai ricorrenti. Io credo che ci sia, questa è una storia veramente molto lunga, perlomeno i lavoratori che hanno partecipato a quel concorso nel 2009 l'hanno percepito come un'ingiustizia il metodo che è stato utilizzato e soprattutto le modalità di come si è svolto quel concorso. E forse potremmo non dargli torto. Il punto vero è che allora ci furono due concorsi, uno per le progressioni verticali nel 2009 e uno per le 22 procedure concorsuali nel 2010. Vorrei ricordare al consigliere Corsetti che il parere che Ottavianelli ha chiesto alla funzione pubblica dove ha posto quel tipo di problema è stato richiesto da una commissione che io stesso ho richiesto allora quando c'era la commissione sport e personale e rilevavo proprio e c'è nel verbale della commissione come effettivamente dalla norma venga detto che coprono i posti disponibili della dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50%. Se è vero che lì non fu dato neanche un posto alla riserva delle progressioni verticali e questo oggettivamente è un problema che io stesso ho rilevato in commissione e che poi ha fatto scaturire il parere di Ottavianelli alla funzione pubblica in realtà non è che dovevano essere per forza il 50% è non superiore a per cui doveva essere almeno uno ma quell'uno non c'era per cui c'è qualcosa che in tutto questo meccanismo non torna. Allora a me preme poter sottolineare alcuni aspetti pare che tutta la questione delle progressioni verticali poi eh siano concentrate sul concetto di ma era un concorso pubblico o non era un concorso pubblico. Allora, la questione è ampiamente dibattuta nei tribunali e ci sono veramente sentenze in tutte le direzioni. Comunque ci sta una sentenza della Cassazione a sezioni riunite che per quanto possa andare a esplicitare un aspetto particolare una casistica veramente particolare nelle spiegazioni della sentenza in realtà non dà dubbi sul valore pubblico delle progressioni verticali. Io leggo da questa sentenza che per procedure concorsiali di assenzione attribuite alla giurisdizione dal giudice amministrativo perché è scritto al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione si intendono non soltanto quelle preordinate alla Costituzione ex novo dei rapporti di lavoro come le procedure aperte ai candidati esterni ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate. Allora, oggettivamente, questo aspetto che veramente sta facendo tribolare i lavoratori che hanno partecipato nel concorso del 2009 sta diventando, purtroppo, è diventato dirimente. A questo si è aggiunto che, visto che i concorsi allora furono sostanzialmente due, uno per le procedure concorsuali interne e uno per le 22 procedure concorsuali esterne, cosa successe? Che poi la listia degli idonei sostanzialmente Roma Capitale non l'ha mai rinnovata e anche questo, purtroppo, ha peggiorato la situazione rispetto a questa situazione. Ora, io sinceramente, oggi ci troviamo... Oggi che giorno è? 24, se non sbaglio, no? È 24, no? Oggi è 24 settembre. Le graduatorie scadono praticamente il 30. Allora, o qui si arriva che il Governo nazionale proroga le graduatorie, e non dico che si possa fare qualche cosa, ma si possa immaginare, solo immaginare, non dico fare, almeno immaginare, di fare qualche cosa. Se non c'è questa condizione, sine qua nonno, non è possibile, cioè proprio non ci sono proprio nei tempi tecnici, non ci sono assolutamente le condizioni. Pertanto, in questi anni, purtroppo, sono stati approvati tanti documenti, anche in questa aula per le progressioni verticali, ma oggi ci ritroviamo con tempi strettissimi e con condizioni veramente minimali, minimali per poter arrivare a raggiungere questo obiettivo. Pertanto, visto che noi non ci troviamo nella condizione oggi di poter dire gliela facciamo, noi oggi non siamo nella condizione di poter votare questa mozione, perché i tempi sono oggettivamente stretti, troppo stretti per poter fare qualche cosa e se ci sono, se si dovessero creare le condizioni per una proroga e ci potranno essere le condizioni future per riprendere in mano questa situazione, la maggioranza non farà mancare il proprio sostegno su questo argomento, ma a oggi oggettivamente votare un documento con le graduatorie che scadono tra qualche giorno oggettivamente non credo che sia la cosa giusta anche nei confronti delle persone che si sono battute per tanti anni. Grazie.